ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video del nuovo anno allora mi era stato chiesto scusate di fare un scusate ma sono raffreddato faccio fatica respirare comunque fare un video sul mio primo video che è stato fatto un video reaction avevo usato movie maker quindi è cambiato totalmente qui avevo fatto il show e poi la terra girava la tua carina sì questi erano i vicoli come vedete erano veramente stretti era molto carina come città veramente tutta così veramente piccoli e case di pane e soprattutto era un labirinto se ci si perdeva molto facilmente Stavo ancora sperimentando fade in e fade out con le transizioni era tutto così scale non si capiva niente si perché poi alla fine avevo preso il gelato e ho detto ma si facciamo il video questo era uno sbaglio era era il museo che era stato c'era una mostra lì in quel momento ascoli picceli resto diciamo che totalmente cambiato come video adesso che adesso posso mettere comunque effetti speciali posso migliorare devo ancora migliorare sicuramente però comunque è un po cambiata sicuramente la grafica perché è migliorata perché uso dispositivi molto più evoluti di immagini e catture quindi video cover con più megapixel però comunque ci sta erano i primi giusto per approcciarmi e capire come era come funzionava è veramente strano cioè proprio adesso che uso sony vegas rispetto a movie maker è una roba totalmente diversa è bellissimo fantastico anche lì devo ancora imparare ad usarlo tantissimo perché è pieno di robe però sì dai e altre cose niente sembra strano non vado quasi mai a rivedere i vecchi video chiudiamo tutto qua ok sì no sembra strano però mi sono reso conto anche io che alcuni passi avanti li ho fatti rispetto a quelli di una volta perché una volta facevo così tanto per adesso mi organizzo e so già cosa devo fare più o meno quindi niente per questo video è tutto io vi ricordo di iscrivervi e commentare lasciare dei like e condividere a chiunque e vi lascio ancora un saluto e vi saluto ciao ciao